Ehi ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Battlefield 4 C'è questo tizio che è il nostro compagno che sta cercando di aprire quella porta Ho le Claymore? Non credo No, non ho le Claymore Dove dovrebbero stare le Claymore? Oh, qui? Oh, ecco le Claymore Grazie mille In posizione Le bici sul balcone Ho piazzato un paio di Claymore lì sotto Eppure è andato Oh, merda Oh, merda Die Mar, ti amo Amo questo fucile ragazzi Ha una precisione bestiale Non li vedo Ora siamo noi in posizione di vantaggio Oh, merda Non vedo niente Non vedo niente Ah Dove stanno? Oh, eccolo Io non andrei lì fossi te Però, ok Ok, ci sei andato T'avevo avvisato io Però, vabbè E' un altro è andato Eccola Claymore Io t'avevo avvisato di non andarci lì Però tu ci sei dovuto andare per forza Che vuoi da me? A che punto stai tizio? Oh Altra Claymore Dove stanno? Oh Oh Claymore il problema è che non li vedo da qua sopra quindi non me li evidenzia neanche con questo quello è il bello oh uno si merda ora si fa esplodere la faccio esplodere io ok goditela addio ok quanti ne saranno rimasti ancora magari una cosa in giornata sti strillano come dei pazzi però non si vanno vedere quel problema è rimasto solo quello e il bello era quello ok alleluia alleluia per solo il bronzo tra l'altro perché ci ha messo tipo 85 anni ma non finivano mai siamo vicini non ha preso nessuno dettagli incontrare qui c'è della scia questo sembrerebbe ok il fulcone non possiamo usare le strade ci sono i cinesi davvero fantastico chi sono questi bimbi sono persone importanti una donna col marito li porteremo fuori sani e salvi vi basti questo sono anna questo è il mio marito grazie per essere qui chiedo scusa signore scusi signora parlate la nostra lingua state bene potete muovervi ma con i piaccio fanno i piaccio mio marito è ferito deve riposare negativo niente soste acquisto degli elicotteri sul tetto andiamo allora saliamo cosa voi lo prendete io lo faccio volare questo è il piano che ti piaccia o no o hai idee migliori sercente da quando rubiamo gli elicotteri avete finito a mio marito servono cure tutta questa violenza dove può portarci alla morte grazie per essere venuto sergente sono felice che siete qui andiamo ora andiamo cos'è quella una mina e basta cos'è questo si porta dietro tutto le le torce i cosi gli attaccapanni le bascino le bargiure tutto quanto se non funziona siamo pure raggiunge il tetto non abbiamo altra scelta andiamo fate strada signore aspettate qui współ Cucu! Ericottero in sicurezza. Attento, Rec. E uno è andato. Anche alla copertura! Non riesco a beccare colpiti di cane! Dove sei, amico? Rec, spazzali via! Eh, a vedere dove stanno, magari. E uno è andato! Addios! Merda! Affermativo! Copertura! Adios! Merda! 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 Oh! Beccato! 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 E beccato! C'è uno qui! Sono praticamente andato sopra la testa! Ok, andiamo! L'elicottero! L'elicottero è qui! Quindi... Posso entrarci ancora nell'elicottero o no, eh? Eh, sto qua! Siete voi che siete lenti come delle lumache obese? Eh... Scotta ragà, al sicuro! Forza! Forza! Vai a controllare, regga! Vai, vai, vai! Andiamo, forza! Via! Oh! E il caderno! E il caderno! E il caderno! E il caderno! Non lo vado, non lo vado! E il caderno! E il caderno! Per lei del cazzo, Capi! Poppa al culo! non li vedo quando si muovono è molto molto difficile colpirli merda via di qui sul piede merda 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 vai qui dietro vai qui dietro Bastardo Guarda che giro dietro E li faccio fuori, li fiancheggio E un altro è andato Questo shotgun è una bestia Vieni qua caro Addio Quindi ora dov'è che devo andare? Merda 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 Godetevelo Godetevelo in un'altra Bene ma i miei amichetti sono rimasti tutti lì A grattarsi Cioè ma davanti da solo in pratica Ok Grazie per le munizioncine Merda Merda Cioè mi fanno fare tutto a me praticamente Che simpatici E basta con queste granate Mamma mia Ok Alleluia Ah ora si muovono giustamente Sembra giusto Veicolo abbandonato Vipi in arrivo con elicottero nemico Uno di loro richiede immediate cure mediche Siamo ancora nella torre signore Cerchiamo via di fuga alternativa Passo Ricevuto Attendo Siamo messi male Damstone Procedete lungo il fiume Stiamo pensando a come tirarvi fuori Ricevuto Ricevuto Chiudo Ok Andiamo Eh si è scappato Lasciandoci lì nella cacca Decisamente Oh che bella musichetta D'ascensore Ah ah Bravo Che cos'è Uno scherzo del cazzo Perché È bella Adoro questa canzone Musica d'ascensore Ok Minora tutto bene Faccio strada Vai vai Andiamo 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 E' questo che intendo Eh Squitomstone 4 Ripetete per favore Ripeto Impossibile mantenere la posizione Non so se mi conveniva sparare Ma tanto alla fine Penso che non Oh merda E tu da dove arrivi? No Non andare lì Oh 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 Colpito Colpito Bene Bene gli ho fatto scaricare Un po' di gente All'elicottero No non ho più Claymore Che palle Quando si muovono È veramente tosta Oh 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 Conviene che rientro Oh 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 Questa vaga sensazione Ma perché non li attaccate? Peccatevi questa va Guardetela Faccio il giro intorno E li purgo dalle spalle Vai 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 Soppressione Soppressione Che c'è rimasto di bello? Uno lì Sì spero siano finiti Fammi qua Mi erano rimaste poche munizioni Comunque qui ragazzi Finisce questo episodio Spero vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un bel like Commentate Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Darkfall è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao Proprio Propriamente è FBS Russia Cazzo che non lo conosciate È un tizio pazzoide Che Spara con le armi In un canale Di YouTube Oh yeah Sono fighissimo Già fatto Colpisci mi No No Colpisci mi carissimo Trappo lento Mwahahahaha Mwahahahahahaha Mwahahahahahaha Mwahahahaha Mwahahah 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 Grazie a tutti.